Tappa a Lucca oggi per il viaggio in Toscana del presidente della regione Enrico Rossi partito il 12 febbraio da Livorno che in un anno lo porterà a visitare ogni angolo del territorio per incontrare e confrontarsi con istituzioni, imprese e cittadini. La prima giornata della tappa lucchese del governatore toscano è partita con un meeting istituzionale al comune per fare il punto con gli amministratori locali sulle priorità per la città. Al centro dell'incontro le infrastrutture la regione finanzierà con 12 milioni e mezzo di euro il raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Montecatini. I lavori inizieranno entro un anno e si concluderanno nel 2019. Rossi si è poi recato a Palazzo Ducale per incontrare gli ex dipendenti della provincia che sono passati alle dipendenze della regione e infine ha visitato l'ex manifattura Tabacchi, lo storico spazio nel cuore di Lucca dove sono in corso lavori di riqualificazione avviati proprio grazie ai fondi messi in campo dalla regione. Si può manifestare soddisfazione per come si è lavorato, per come si sta lavorando, per la qualità del recupero ma anche per il fatto che a volte si fanno questi interventi e qualche volta non si è ben chiaro le prospettive di riuso. Qui invece mi pare che ci sono chiarezza di idee da parte del comune e mi convince anche questa cosa che le funzioni pubbliche della cultura, dell'università, del polo universitario si siano collegate anche a funzioni private che creeranno il giusto movimento, la giusta dinamica, il giusto dinamismo collettivo in modo che questo, uso le parole che mi sono state dette, ritorni ad essere davvero un centro vivo per la città. I lavori al cantiere della ex manifattura erano rimasti fermi per alcuni scavi archeologici ma adesso sono ripartiti e termineranno entro il 2017 per recuperare non solo uno spazio importante ma un vero pezzo di storia della città. È uno spazio straordinario, grandissimo nel cuore della città, si può dire che è una parte notevole della città antica, ci sono funzioni previste, altre ne saranno previste, comunque sono funzioni che integrano vari aspetti della vita sia del comune sia della vita anche economica e culturale della città.